Carissimi amici ed amiche, consentitemi di dire due parole, un pensiero per i funerali che si sono svolti della piccola Elena del Pozzo, la bambina di 5 anni, follemente uccisa dalla mamma Martina Patti, una mamma giovane, una mamma ragazza, che inconcepibilmente ha ucciso violentamente questa figlia. Ebbene, mi hanno molto colpito le parole dell'arcivescovo che ha presenziato alla cerimonia funebre, che veramente sono da monito e da insegnamento per tutti. Ovviamente lutto cittadino a Mascaluccia, Catania. E in questa cattedrale di Catania, in un silenzio surreale, l'arcivescovo Luigi Renna ha detto delle parole molto belle che io mi sono segnato e sulle quali volevo riflettere insieme a voi. volevo riflettere. Gli ha detto che i bimbi tornino al centro delle nostre vite, ma non lapidiamo la mamma. Perché io penso che per lei la condanna, la condanna di aver ucciso la figlia, sarà una condanna a vita per se stessa. Una commozione unica, quella piccola barra bianca con sopra i fiori bianchi accolta da un lungo applauso delle persone tutte in piedi. Ma l'arcivescovo, tornando all'arcivescovo, ha una parola anche per Martina, la mamma. Dice, noi come giudici siamo pronti a lapidare qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della nostra città, nei pressi della chiesa del divino amore, una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la mamma. però non credo che la piccola Elena sarebbe d'accordo con quelle parole, come ogni bambino. Poi prosegue dicendo, voi genitori non insegnate la violenza delle parole ai vostri figli, né sui social, né sui nostri muri già abbastanza sporchi. Perché un bambino, quello che Giuse Cristo ha messo al centro, non è capace, un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli, mediatici. E se impara queste cose, le impara da noi. I bambini sono puri di cuore, dice Gesù Cristo, e non sanno imbracciare né armi né impugnare pietre. E se un domani ci dovessero essere altre vittime, come la nostra piccola Elena, sarà perché qualcuno avrà seminato nel campo di Dio la gramigna dell'odio, della vendetta, della rabbia, della irrazionalità. Sforziamoci di seminare ciò che Cristo e ogni uomo animato da buona volontà spargono con abbondanza. Cioè la misericordia, la pietà, la giustizia. E poi conclude con una frase molto bella, significativa, dice, alziamoci sulle punte dei piedi per stare all'altezza dei bambini. È un paradosso, vedi, i bambini sono più piccoli degli adulti. Dice, però noi alziamoci sulle punte dei piedi per stare all'altezza dei bambini, perché i bambini hanno un cuore puro. E questo lo diceva anche un vicepatico ai miei tempi, che poi adesso è anche viscovo, viscovo della diocesi di Avellino, don Asturo, che diceva il segreto della felicità è conservare un cuore bambino. Il cuore bambino è quel cuore capace di meravigliarsi, di stupirsi, di dare amore senza pretendere niente in cambio, di essere puro, di essere senza odio, senza riserve mentale, tutte le cose brutte che un bambino man mano che cresce sedimenta. è quello che apprende da noi, dalla famiglia, dalla società. Ecco perché quando a me domandano cosa noi possiamo fare noi genitori per educare i figli, io dico niente di particolare, basta l'esempio, perché i bambini assorbono come spugne. E nel caso di Elena, lei è stata accorta dalla ferocia di una violenza della mamma inaudita di cui lei si fidava. Lei non stava lì a fare attenzione alla mamma. Noi abbiamo visto quel filmato quando la mamma Martini è andata a prendere la scuola all'uno e mezza. La bambina si è buttata fra le sue braccia, perché le braccia di una mamma sono braccia amorevoli per i bambini. È normale che un bambino o una bambina si figli della mamma. Però purtroppo questa mamma non si sa cosa le ha presi. Il sentimento, vedete, il sentimento dell'odio indiretto. Certamente non odio diretto per la bambina, ma il senso di vendetta verso magari un partner, un compagno che magari si è messo con un'altra persona, che magari il volere all'affetto della figlia solo ed esclusivamente per se stessa e non che questo affetto venisse dato anche al papà. Cioè queste cose veramente dà squilibrio mentale. Arrivare al punto da uscire di casa in macchina con la bambina, di postare con sé la pala, i sacchi neri. Ma vedete, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Andare in questo campo e uccidere la propria figlia, metterla nel sacco, metterla sotto tesa, andare a casa sporca di sangue, lavarsi, cambiarsi, nascondere i vestiti che poi sono stati trovati e poi progettare anche una scusante. Dice no, i rapitudi sono venuti, gli incappucciati, dando la colpa indirettamente al compagno, al papà, dicendo mi hanno minacciato, si sono presi la bambina. Vedete, una cosa è il Zaptus di follia che a volte dà anche l'opportunità di essere riconosciuto, incapace, di intendere, di volere. Ma in questo caso no. In questo caso no perché c'è addirittura la folle premeditazione. Però, come dice l'Arcivesco, non vogliamo un'agonia mediatica, non vogliamo una sofferenza, una condanna. La sofferenza, secondo me, questa mamma, questa giovane mamma, se l'è data da sola finché vivrà. E quindi questi 20, 30 anni, quando avranno, non hanno importanza. La condanna se l'è data già da sola. Con questo omicidio efferato, premeditato, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quando colpiscono i bambini, vedete, in tutti noi ci sta un moto di ribellione, di angoscia, perché la violenza è sempre violenza, è sempre condannabile da dove venga venga. Ma quando colpiscono i bambini è un qualcosa di ripugnante, perché sono fiori che crescono, crescono in un campo verde. E quindi prendere questi fiori e toglierli dal terreno dove stavano crescendo è un qualcosa di bruttissimo. E quindi veramente, per chi ha fede, solo a quella si può appellare, perché queste immagini che ho viste della barra bianca, coperta di fiori bianchi, che sfilava fra due ale di folla plaudente, è qualcosa che ci deve far riflettere. Quindi è opportuno cercare di tutelare i bambini. Qualsiasi cosa avvenga in una coppia, lasciate stare i bambini. Perfino la malavita, ci sono leggi non scritte che condannano il male fatto ai bambini. E quindi riposo in pace, cara piccola Elena. E si è cercato di trovare in questi giorni un motivo, un qualcosa, perché noi vogliamo spiegare tutto con una certa razionalità per dire, ma forse ha avuto un complice, ma forse c'è stato qualcun altro, ma forse è stata costretta a fare qualcosa, perché non ci si capacita di come una mamma possa arrivare a tanto. Eppure ci si è dovuto rendere conto che è stata una follia tutta sua. Grazie amici miei, questo video molto sentito, molto provato da questo fatto e ho voluto condividere questa emozione con voi. Grazie e un abbraccio sempre a tutti quanti voi. a tutti quanti voi e un abbraccio sempre con voi. Grazie a tutti.